Che il Signore vi benedica, miei cari fratelli e sorelle, e anche a tutti gli altri spettatori, persone recenti, che si aggiungono ai nostri insegnamenti meravigliosi della domenica e del giovedì. Inoltre ci sono tante persone che si sono aggiunte alle meditazioni di metà settimana. E ringraziamo il Signore perché Lui ci ha dato questa opportunità meravigliosa di poter stare con voi, di poter continuare a meditare nella parola del Signore attraverso questo mezzo di comunicazione, attraverso appunto la tecnologia. E ringraziamo il Signore perché oggigiorno è più facile, più semplice arrivare alle persone, comunicare con gli altri paesi. mentre nell'antichità non era così facile. Infatti, gli apostoli, come l'apostolo Paolo, dovevano viaggiare camminando oppure andavano a cavallo usando un asino, un cammello, per muoversi da un posto all'altro e per poter evangelizzare e parlare di Dio. usavano anche una barca. Però loro soffrivano, soffrivano tante avversità durante quei viaggi. Ad ogni modo li facevano e ci lasciarono questo esempio. Ci lasciarono tante rivelazioni, tanti insegnamenti, perché lo Spirito Santo insegnava loro a quell'epoca. e sono degli insegnamenti che sono tuttora validi oggi. E noi e noi beneficiamo di questi insegnamenti, delle loro esperienze, dei loro vissuti, delle loro parole, di tutto quello che la Chiesa del Signore antica fece agli inizi. E noi oggi siamo qui davanti al Signore facendo lo stesso lavoro con il cuore, con amore, sperando che le generazioni future possano seguire il nostro esempio, anzi, che il Signore si manifesti ancora di più e che li usi ancora di più rispetto a noi. Quindi ringraziamo Dio per il suo amore e per la sua benignità. Oggi glorifichiamo il Signore cantando un inno. Cantiamo il Signore l'inno 230 che si intitola La Croce e la Grazia di Dio La Croce non sarà più pesata che la grazia che mi ha dato e se la tormenta mi ha fatto non potrà esconder la grazia di Dio la grazia mi bastara su ayuda jamas mi faltara consolato por su amor che echa fuori mi temor confiar in me mi Señor mi calice nunca è tan amargo come il di Getsemane in me 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 si si la grazia di Dio mi bastara su aiuta jamas mi faltara consolato por su amor che echa fuori mi temor confiaré en mi Señor la luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios la gracia de Dios me bastará su ayuda jamás me faltará consolado por su amor que ya fuera mi temor confiaré en mi Señor gloria e onore a Dio ringraziamo il Signore Lui sa che noi Gli cantiamo con tutto il nostro cuore con tutto il nostro essere Allora fratelli e sorelle come state? Io penso che già siete comodi seduti quest'anno è passato quest'anno è volato non ci siamo nemmeno resi conto perché il tempo veramente è volato sono successe tante cose e altre invece non sono più successe mi dispiace per tutti coloro che avevano dei piani per esempio la laurea i giovani le giovani che si sono laureati all'università magari in ritardo oppure hanno preso il diploma ai licei e loro desideravano la loro festa la festa di fine anno la festa di laurea però questa pandemia è stata una delusione da questo punto di vista mi dispiace per coloro che non hanno potuto festeggiare il diciottesimo anno l'anno della maturità mi dispiace per i matrimoni che non si sono celebrati mi dispiace per tutte queste cose però bisognerà quando sarà passata la pandemia celebrare la festa di matrimonio o la festa dei diciott'anni in un altro momento ad ogni modo sono successe tante cose ci sono anche tante persone che si sono ammalate l'isolamento stare rinchiusi in casa ha causato tanta depressione in tante persone però noi siamo qui affrontando tutte le situazioni pregando chiedendo al Signore per noi per voi per tutti stiamo lottando per andare avanti per non smettere di andare avanti per non farci travolgere dall'incertezza della situazione anzi dobbiamo essere ancora più coraggiosi coraggiosi perché veramente sono stati giorni brutti per esempio per coloro che hanno perso i loro cari a causa della pandemia hanno perso i loro cari e perdere un caro è molto triste sebbene noi sappiamo che per la persona che muore quella persona va a riposare questa è la volontà del Signore ovunque sarà portata questa persona riposerà da tante avversità che ci sono in questa vita e noi siamo ancora qui con Dio invece e cerchiamo che la nostra vita sia piacevole che la nostra vita quotidiana sia fatta di allegria di soddisfazioni di gioie e non permettiamo che il nemico venga a rubarci la nostra felicità la nostra pace o che ci tolga dal cammino che stiamo facendo o che ci separi dalla mano di Dio noi dobbiamo essere forti coraggiosi andare avanti e pregare la preghiera è molto potente sapete che la preghiera che si fa con fede avendo fiducia in Dio è molto potente la preghiera di fede cambia cambia le cose perciò bisogna continuare a lottare e a pregare e chiedere a Dio acclamare al Signore benignità e pregare anche per i vostri cari per le persone che vivono con voi che soffrono ci sono tante persone infatti che vogliono togliersi la vita vogliono suicidarsi altri sono malati di mente hanno perso la ragione pregate per loro e chiedete a Dio il creatore dei cieli della terra al Dio che ci ha creati con la sua mano potente chiedete aiuto a Lui e vedrete come Lui sarà attento a benedirvi oggi leggeremo un capitolo della Bibbia nel quale si parla dei comandamenti dei dieci comandamenti che il Signore diede non solamente al popolo di Israele ma per tutti coloro che da lì in poi si sarebbero aggiunti al popolo di Israele perché da lì in poi chi voleva credere in Dio compiere i comandamenti doveva aggiungersi al popolo di Israele acquisire la cittadinanza degli israeliti e quindi circoncidersi perciò i comandamenti non erano solamente per i 600.000 uomini che Mosè fece uscire dall'Egitto no furono anche per tutte le persone che da lì in poi si sarebbero aggiunte al popolo di Israele quindi persone che sarebbero diventati degli israeliti erano anche per loro i comandamenti quindi il Signore sapeva che si sarebbero aggiunte agli israeliti altre persone sebbene quelle persone avrebbero peccato e non avrebbero potuto raggiungere la vita eterna ecco perché già il Signore sapeva che in futuro persone di tutto il mondo avrebbero dovuto compiere i suoi comandamenti per essere salvi per ottenere la vita eterna non solamente gli israeliti ma gente di tutto il mondo e già il Signore sapeva questa cosa perché era un suo piano noi sappiamo leggendo la Bibbia che il Signore all'inizio ha parlato sì al popolo di Israele ma non era solamente per loro erano anche per le altre nazioni soprattutto per i gentili dai quali noi proveniamo quindi per coloro che compivano i comandamenti c'erano benedizioni e promesse meravigliose ma il Signore già sapeva che ci sarebbe stato tanto peccato e tanta disubbidienza ecco perché oltre alle benedizioni ci furono i castighi le maledizioni a causa appunto della disubbidienza e questo lo troviamo scritto nella Bibbia lo troviamo scritto in Giudici in Samuele nei Re nelle Cronache e lì ci rendiamo conto che il popolo peccò peccò e peccò fino a quando l'ira di Dio o il calice di Dio arrivò all'orlo e non tollerò più il comportamento degli israeliti e li castigò e questo è quello che noi leggiamo nella Bibbia perciò il Signore inviò i Suoi profeti lui aveva i Suoi profeti e li inviava ad ogni epoca ad ogni epoca di ogni re il Signore inviava questi profeti per richiamarli per avvisarli per risortarli per rimproverarli affinché essi si potessero pentire e il Signore durante questi avvertimenti tramite i profeti parlava al popolo diceva loro delle benedizioni dei trionfi e delle vittorie ma anche dei castighi che il popolo avrebbe vissuto più avanti parlavano delle distruzioni che sarebbero arrivate a Gerusalemme a causa del peccato e delle malvagità ecco il Signore inviava i Suoi profeti principalmente Isaia Geremia Osea Gioele Amos Abdiah tutti questi profeti furono inviati da Dio per parlare al popolo per dire al popolo di pentirsi di seguire il cammino del Signore perché Dio non voleva castigarli oggi quindi leggeremo un capitolo nel quale il Signore era molto arrabbiato con il popolo di Israele il Signore disse al popolo di Israele che il Signore era lo sposo e Israele era la sposa Signore diceva di Israele io sono vostro marito e tu Israele sei mia moglie lui parlava in questo modo simbolico metaforico facendo capire che Dio era l'unico il creatore e a Lui si dovevano l'onore e la gloria Lui doveva essere glorificato ma il popolo cos'è che faceva credeva agli dèi stranieri tutto il popolo di Israele cercava altri dèi perciò il Signore diceva agli israeliti voi siete come una donna meretrice una donna adultera come una prostituta perciò il Signore trattava così il popolo di Israele perché Lui diceva io sono vostro marito e sono stato fedele ma voi vi siete comportati come quelle donne prostitute che vengono pagate in cambio di favori ecco il Signore tramite questa illustrazione parlava al suo popolo specialmente a Giuda e a Gerusalemme Giuda era lo stato e Gerusalemme ne era la capitale perché fisicamente Dio aveva scelto quella Gerusalemme fisica dove costruì un tempio tramite Salomone e in quel tempio Dio si manifestava ogni anno con il Sommo Sacerdote infatti il Signore parlava con il Sommo Sacerdote una volta all'anno e perdonava i peccati del popolo questo era il rituale che ogni anno si faceva e quindi il Signore disse io ho scelto Gerusalemme come punto di partenza ma il Signore vedeva già che in futuro Lui avrebbe avuto un'altra Gerusalemme una Gerusalemme spirituale celestiale e questa Gerusalemme spirituale veniva chiamata Sion e Dio fece attenzione al tempio fisico che Salomone aveva costruito di tutta la parte fisica di Gerusalemme tutti i sacrifici che facevano nel tempio e Dio faceva attenzione perché tutta quella parte fisica era l'anticipo di quello che sarebbe accaduto in futuro cioè sarebbe arrivata la vera Gerusalemme o la vera Sion spirituale con un tempio spirituale sarebbe arrivato il vero popolo del Signore spirituale e questo popolo erano credenti nel Vangelo del Signore Gesù Cristo quindi il Signore vedeva già che in futuro sarebbe arrivato un nuovo popolo però Lui voleva partire dal popolo di Israele dando anche a loro benedizioni ma il popolo peccò perciò quello che aspettava quel popolo erano dei castighi specialmente per la città di Gerusalemme e per lo stato di Giuda Gerusalemme veniva anche chiamata la figlia di Sion e oggi lo leggiamo in Isaia Isaia capitolo 3 Isaia capitolo 3 troviamo che il Signore attraverso Isaia il profeta emette un giudizio contro Giuda e Gerusalemme quindi Giuda era lo stato e Gerusalemme era la capitale appunto di Giuda era la città capitale e il Signore emette questo giudizio contro Gerusalemme e contro Giuda perché si erano allontanati da Dio stavano commettendo tanti abomini tanti peccati Gerusalemme e Giuda andavano dietro agli dei stranieri di tutte le altre nazioni confinanti e nazioni vicine come i siri gli assiri gli egiziani i caldei bene tante nazioni confinanti e ogni nazione ogni paese aveva il proprio Dio o i propri dei e Gerusalemme e Giuda erano diventati anch'essi idolatri e seguaci di tutti quegli dei stranieri perciò il Signore era molto arrabbiato e parla Gerusalemme così dicendole figlia di Gerusalemme non si rivolse più direttamente a Gerusalemme dicendo tu Gerusalemme o tu abitanti di Giuda o di Gerusalemme la chiama la figlia di Sion la figlia di Sion così la chiama perché perché il Signore aveva una promessa bella per loro se avessero compiuto i comandamenti avrebbero vissuto felicemente avrebbero ottenuto la vita eterna e lui sarebbe stato il re di quel popolo ma non fu così allora il Signore disse preparerò altri cuori un gruppo un residuo affinché Sion sia spirituale Gerusalemme sia spirituale il Tempio sia spirituale non più fisico perché l'essere umano fallì e non riuscì perciò il Signore la chiama figlia di Gerusalemme invece di chiamarli abitanti di Gerusalemme li definisce così figlia di Sion è una metafora un'allegoria che il Signore stava utilizzando per trattare il suo popolo in quel modo chiamandolo così e noi oggi leggiamo tutto il castigo che il Signore avrebbe dato a Gerusalemme a Sion agli abitanti di Giuda capitolo 3 di Isaia verso 1 dice poiché ecco il Signore l'Eterno degli eserciti sta per togliere a Gerusalemme e a Giuda ogni sostegno e appoggio ecco dice che il Signore avrebbe tolto il sostegno e l'appoggio a Gerusalemme e a Giuda quindi avrebbe tolto l'abbondanza per il popolo di Gerusalemme per lo stato di Giuda togliendo loro il pane il cibo avrebbero sofferto di fame e di sete e infatti dice il Signore toglierà ogni sostegno e appoggio ogni sostegno di pane e ogni sostegno di acqua il prode o il guerriero ricordiamoci che nel popolo di Israele c'era l'esercito e c'erano i prodi i prodi erano un gruppo di persone che lottava contro l'esercito delle altre nazioni e siccome loro erano i prodi solitamente un prode trionfa il prode affronta i nemici delle altre nazioni gli altri eserciti nelle battaglie e solitamente vince quindi questi erano i prodi e i guerrieri ricordiamoci per esempio la storia di Golia Golia era un prode era un guerriero coraggioso che apparteneva all'esercito dei filistei o degli egiziani non ricordo dei filistei e Davide affrontò Golia Davide non era forte non era un guerriero lui era un giovane e disse con lo spirito di Dio vincerò sopra questo prode dell'esercito nemico sopra Golia quindi e Dio stette con Davide e infatti Davide lanciò una pietra tramite una fionda lanciò una pietra e quella pietra precisamente cadde in mezzo alla fronte del gigante che cadde a terra e Davide vinse quindi Davide vinse la battaglia e il popolo di Israele vinse tramite Davide ma perché Dio stava con Davide era con lui però prima di affrontare il gigante Golia Davide fu criticato dal popolo dicendo ma com'è che tu vai ad affrontare questo gigante tu che sei giovane lascia che sia il nostro esercito a guerreggiare contro quel gigante e Davide disse no lasciate andare a me perché io ho lo spirito di Dio in me e io vincerò quindi in questi versi Dio stava dicendo che Gerusalemme e Giuda sarebbero state castigate così fortemente che non ci sarebbero più stati né prodi né guerrieri a difenderle contro gli eserciti delle altre nazioni e infatti quando sarebbero arrivati gli eserciti delle altre nazioni Gerusalemme e Giuda avrebbero perso immediatamente le guerre perché non c'erano più prodi né guerrieri e questo era il castigo per Gerusalemme e per Giuda quindi qui nel verso 2 dice io toglierò da Gerusalemme e da Giuda il sostegno l'appoggio il pane l'acqua toglierò il prode e il guerriero il giudice e il profeta poi dice toglierò l'indovino e l'anziano rimarranno soli abbandonati quindi senza cibo senza bevande senza esercito oppure si mantenevano l'esercito ma un esercito debole che sarebbe stato sconfitto dalle altre nazioni più forti ripeto quindi il verso 2 Dio avrebbe tolto a Gerusalemme e a Giuda il prode e il guerriero il giudice e il profeta l'indovino e l'anziano questo avrebbe fatto il Signore avrebbe tolto tutto perché perché in quell'epoca c'erano anche tanti indovini tra il popolo del Signore quando in realtà Dio aveva detto non andate a consultare gli indovini o i medium perché Dio stesso aveva inviato i Suoi profeti e attraverso i profeti si poteva consultare Dio però loro no consultavano gli indovini gli anziani e ce n'erano tanti in Gerusalemme e in Giuda quindi il Signore era molto arrabbiato e disse toglierò tutto questo e arriverà il giorno in cui vi toglierò ogni cosa non ci sarà più indovino né anziano perché tutti sarete umiliati davanti a me morirete verso 3 dice toglierò il capo di una cinquantina è il notabile il consigliere l'esperto artefice e l'abile incantatore quindi il Signore avrebbe tolto tutto persino avrebbe tolto alcuni sacerdoti che in realtà camminavano bene davanti agli occhi del Signore ma avrebbe tolto tutto dai profeti ai consiglieri ai capi di una cinquantina e tutti sarebbero stati soli abbandonati e non avrebbero più potuto consultare Dio ricordiamoci che in quell'epoca si consultava Dio attraverso i profeti ma Dio tolse loro anche questa possibilità e dice nel verso 4 il Signore dopo che vi avrò tolto tutte queste cose sostegno appoggio dopo che rimarrete senza niente senza nessuno che vi aiuti che vi appoggi allora io vi darò dei ragazzi come principi dice il verso 4 e dei bambini vi domineranno cioè gente senza esperienza vi dominerà gente che non saprà non saprà prendere delle decisioni che avrebbero commesso tanti errori vi domineranno e in effetti è successo così perché questo verso numero 2 quando il Signore dice che avrebbe tolto i profeti i prodi i guerrieri i giudici questo è successo veramente secoli dopo questa profezia quando quel gruppo di residuo che fu portato schiavo a Babilonia e lì a Babilonia stettero 70 anni come schiavi del re di Babilonia dopo 70 anni poi Dio permette di far ritornare questo gruppo di residuo a Gerusalemme e di ricostruire nuovamente sia la città che il Tempio da lì in poi fino a quando arrivò il Signore Gesù Cristo passarono 430 anni e durante questi 430 anni il Signore non si manifestò più né con i profeti né attraverso un somo sacerdote Dio non si rivelò a nessuno non si mostrò a nessuno e tutti vissero soli abbandonati per 430 anni e in verità i principi e i governanti erano persone inesperte giovani ragazzi che non avevano esperienza non avevano conoscenza quindi questi versi si compirono in quell'epoca quindi questo verso si è compiuto e poi quando il Signore Gesù Cristo apparso la gente fu felice e disse il Signore si è ricordato di noi adesso abbiamo un nuovo profeta parole di Dio quindi versi 3 e 4 si sono compiuti però bene retrocediamo nel tempo nel verso 5 dice il popolo sarà oppresso l'uno dall'altro e ognuno dal suo prossimo il fanciullo sarà insolente verso il vecchio lo spregevole verso l'uomo onorato tutto questo è successo in tutti quei secoli 6 uno afferrerà il proprio fratello nella casa di suo padre e dirà tu hai un mantello sei nostro capo e prenditi cura di questa rovina dice che sarebbe arrivato il tempo in cui tra gli stessi fratelli si sarebbero nominati re capi perché non c'era più nessuno ognuno faceva quello che gli sembrava più conveniente perché Dio non era più con loro li aveva abbandonati quindi non li guidava più nel verso 7 dice ma in quel giorno egli dichiarerà solennamente dicendo qui si riferisce a un governante a un principe nominato dal popolo e parla lui stesso e dice io non fascerò le vostre ferite perché in casa mia non c'è pane né mantello non fatemi capo del popolo quindi lo stesso governatore diceva non nominatemi tale non nominatemi re perché io non ho niente da darvi non ho neanche pane né mantello viviamo tutti nella rovina siamo tutti soli senza Dio senza speranza Dio ci ha abbandonati perciò non nominatemi perché io non sono in grado di governare il paese quindi Isaia attraverso questa profezia stava avvisando il popolo di tutto quello che sarebbe successo per vedere se magari qualcuno si poteva pentire tramite questa profezia e ritornare al cammino del Signore verso 8 Gerusalemme infatti barcolla e Giuda cade perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno per provocare a Dira lo sguardo della Sua Maestà l'espressione del loro volto testimonia contro di essi mettono in mostra il loro peccato come Sodoma e non lo nascondono vedete il Signore ha sempre utilizzato un esempio l'esempio di Sodoma disse a Gerusalemme e a Giuda che sarebbe accaduto la stessa cosa successa a Sodoma e Gomorra che si allontanarono da Dio a causa della lossuria di tutti i peccati di andare contro la natura perché stavano commettendo tanti abomini queste due città andavano uomini con uomini donne con donne abbandonando l'uso naturale che Dio aveva comandato e quindi Sodoma e Gomorra cominciarono a idolatrare tanti dei si allontanarono da Dio solamente uno era giusto Lot e infatti Lot fu salvato dopo che Dio mandò fuoco su queste due città dove tutti morirono perciò il Signore tramite Esaia parla agli abitanti di Gerusalemme e di Giuda dicendo loro guardate che vi passeranno le stesse cose che sono successe a Sodoma e Gomorra perciò pentitevi ma non fu così quindi ripeto il 9 l'espressione del loro volto testimonia contro di essi mettono in mostra il loro peccato come Sodoma e non lo nascondono guai a loro perché fanno del male a se stessi dite al giusto che avrà del bene perché mangerà il frutto delle sue opere guai a Lempio verso 11 guai a Lempio gli verrà addosso la sventura Lempio chi era? era colui che dopo aver conosciuto Dio dopo aver conosciuto i cammini del Signore conosceva i comandamenti del Signore conosceva tutto quello che Dio aveva detto attraverso Mosè e la legge e nonostante questo queste persone si allontanarono da Dio compiendo malvagità questi sono gli Empi dopo che hanno conosciuto Dio dopo che avendo goduto della mano di Dio delle benedizioni di Dio dopo aver partecipato alle benedizioni di Dio retrocedono e cominciano di nuovo a peccare questo è Lempio e quindi qui il Signore attraverso Isaia dice guai a Lempio gli verrà addosso la sventura perché gli sarà reso quel che le sue mani hanno fatto gli oppressori del mio popolo sono bambini e donne dominano su di lui o popolo mio quelli che ti guidano ti fanno sviare e distruggono la via che tu percorri quindi qui stava dicendo il Signore che gli israeliti erano guidati da ragazzi non avevano timore né di Dio non avevano la dottrina non conoscevano nemmeno le leggi per condurre un buon governo quindi questi ragazzi dominavano su Gerusalemme e su Giuda sviandoli totalmente verso 13 l'Eterno si presenta per contendere e prende posto per giudicare i popoli l'Eterno entra in giudizio con gli anziani del suo popolo e con i principi di esso dice che il Signore avrebbe giudicato gli anziani di quel popolo e avrebbe giudicato i principi o i governanti e dice infatti siete voi che avete divorato la vigna significa che simbolicamente il popolo di Israele rappresentava una vigna e Dio si aspettava che quella vigna desse buoni frutti ma non fu così diede buoni frutti anzi diede frutti selvatici ecco perché qui il Signore dice bisogna distruggere questa vigna bisogna bruciarla quindi dice siete voi che avete divorato la vigna voi principi voi anziani che avete compiuto gravi errori soprattutto vi siete allontanati dal cammino di Dio e per questo succede tutte queste cose ripeto 14 l'Eterno entra in giudizio con gli anziani del suo popolo e con i principi di esso siete voi che avete divorato la vigna le spoglie del povero si trovano nelle vostre case con quale diritto schiacciate il mio popolo e pestate la faccia dei poveri dice il Signore l'Eterno degli eserciti dice ai governatori voi state distruggendo state schiacciando il mio popolo state distruggendo la vita spirituale di tutte queste persone state mettendo in dubbio la loro fede il timore di Dio che prima avevano mentre adesso voi siccome non sapete governare non sapete insegnare il cammino né metterlo in pratica allora state distruggendo così il popolo e dice poi nel verso 16 l'Eterno dice ancora e avverte qui avverte che a causa di tutti i peccati e di tutte le colpe lui manderà dei castighi e dice l'Eterno adesso vi elenco tutti i castighi che avverranno per voi Gerusalemme e Giuda e qui il Signore chiama i governatori i principi tutte le persone importanti le figlie di Sion li chiama così le figlie di Sion si riferiscono quindi anche ai sacerdoti profeti principi anziani re governatori giudici e tutti gli abitanti di Gerusalemme e di Giuda venivano chiamati tutti le figlie di Sion non li chiamava direttamente abitanti di Gerusalemme eccetera li chiamava così e guardate il castigo che aspetta a queste figlie di Sion a queste donne in senso metaforico sapendo appunto che si stava riferendo soprattutto a quei personaggi e quindi nel 16 l'Eterno dice ancora poiché le figlie di Sion sono altezzose quindi sono diventate superbe arroganti ribelli orgogliose e procedono con il collo teso e con sguardi provocanti sguardi provocanti spiritualmente a causa del peccato che stavano commettendo stavano commettendo gli abomini davanti all'Eterno davanti a Dio e tra questi abomini noi nel profeta Ezechiele troviamo alcuni abomini che Dio mostrò ad Ezechiele in visione infatti Dio disse Ezechiele ti mostrerò in visione tutto quello che gli abitanti di Gerusalemme e di Giuda fanno mostrò infatti nelle visioni dei vizi e vide che all'interno del tempio che Salomone aveva costruito per il Signore tutti avevano messo degli altari alti luoghi alti posti dedicati ad altri dei avevano collocato delle specie di delle tende di camping e le avevano messe dentro al tempio e lì si prostituivano portavano sì le meretrici le prostitute e facevano tutte queste cose all'interno del tempio di Salomone ma nello specifico dentro a come vi posso dire ad una tenda e facevano tutte queste cose per venerare gli dei quelle statue offrivano i loro corpi ecco il tempio di Salomone fu convertito in tutti quegli abomini oltre al fatto che portarono all'interno del tempio dipinti di altri dei cominciando ad adorare tutti quegli idoli e lì nel tempio inoltre entrarono donne sole compiendo delle orgie perché quello era un modo dicevano di onorare i loro dei e tutto questo lo vide Ezechiele in visioni visioni che Dio mostrava e disse vedete quello che si fa in quel tempio Ezechiele vedi quello che fanno e tu pensi che io devo perdonare il popolo no io non lo perdonerò anzi distruggerò il popolo invierò l'esercito di Babilonia per distruggere la città tutto il popolo però per prima cosa soffriranno la fame la sete infatti la città fu circondata dall'esercito di Babilonia tanti morirono all'interno delle mura chi per spada dell'esercito chi per peste chi per fame e questo tutto a causa dell'idolatria tutto quello che fecero all'interno del tempio di Salomone il tempio di Salomone doveva essere santificato e sacro perché lì Dio disse che si sarebbe manifestato mentre il popolo lo convertì in un bordello in una casa di libertinaggio oltretutto pieno di statue di idoli sacrificando persino gli esseri umani ci furono re che sacrificarono i propri figli nel tempio per il dio Moloch per il dio Astaroth bene per tanti dei quindi questi furono tutti abomini contro l'Eterno commessi da Gerusalemme e da Giuda e qui il Signore dice poiché le figlie di Sion sono altezzose e procedono con il collo teso e con sguardi provocanti ecco qui dice che quando guardavano guardavano in modo provocante e camminando a piccoli passi vuol dire vantandosi un poco e dicevano noi stiamo adorando tutti questi dei guardateci come guardiamo quel dio tale quella dea tale come li veneriamo e si sentivano orgogliose di tutto quello che facevano questa è una figura simbolica quando diceva che le figlie di Sion danzavano a piccoli passi per farsi vedere dagli altri per vantarsi così che gli altri potessero fare la stessa cosa e imitare queste figlie di Sion e facendo tintinnare gli anelli ai loro piedi passiamo al 18 in quel giorno il Signore toglierà l'ornamento degli anelli alle caviglie i cappellini e le lunette allora questi elementi com'è che si possono chiamare accessori questi accessori di bellezza sono tipici delle donne e siccome il Signore chiama gli abitanti di Gerusalemme come le figlie di Sion è perché il Signore voleva enfatizzare come in realtà era il popolo di quell'epoca perché come la donna ha delle caratteristiche proprie perché la donna si veste bene si trucca usa gioielli e siccome la donna usa tutti questi accessori allora il Signore usa la figura della donna per parlare degli israeliti paragonandoli delle figlie di Sion come a delle donne che si vantano che si truccano che si vestono che ballano che si vantano per farsi vedere e quindi il Signore dice questo sarà il castigo toglierò gli anelli alle caviglie i cappellini e le lunette ma non era a livello fisico perché se uno vive o vivevano come loro nell'abbondanza non era peccato avere queste cose non era peccato adornarsi i capelli le braccia sì le persone in quel tempo chi aveva più denaro coloro che erano ricchi erano soliti vestirsi con delle telefine con sì del lino fino e si mettevano addosso anche dei gioielli sulle braccia sui piedi gioielli nel naso adorni sulla testa e in quel modo dimostravano che erano dei personaggi importanti perché avevano del denaro e quelle persone importanti a livello economico quando passeggiavano per la strada i poveri li onoravano gli facevano reverenza perché dicevano questa persona è potente perché è ricca allora io devo salutare questa persona quindi i poveri omaggiavano i ricchi il Signore ha sempre permesso che ci fossero poveri e ricchi non è che tutti vivevano allo stesso livello no c'erano i poveri e c'erano anche i ricchi perciò i ricchi dimostravano la loro ricchezza la loro importanza attraverso il vestuario e attraverso gli accessori che indossavano quindi dimostravano appunto la loro ricchezza la loro importanza come oggi diremmo che dimostrano il proprio strato sociale oggi si parla della classe media della classe alta della classe bassa e anche in quel tempo già esisteva questa differenza economica tra il popolo quindi una persona per dimostrare che apparteneva alla sua classe alta si vestiva in un certo modo e indossava tanti gioielli e i principali i comandanti che erano coloro che erano i più ricchi che si vestivano in questo modo in realtà stavano peccando non perché si vestivano così ma perché dentro di loro non compivano i comandamenti del Signore allora il Signore disse sai cosa farò ti toglierò tutto quello che hai di anelli alle caviglie i cappellini le lunette gli orecchini i braccialetti e i veli vuol dire che quando arriverà l'esercito di Babilonia verso di te Gerusalemme o Giuda non avrai più denaro non avrai più da vestire non avrai più cibo allora tu Gerusalemme e Giuda camminerai per strada nudo e scalzo non avrai più gli orecchini i turbanti i braccialetti perché sarete rovinati rovinati e questo sarà il primo passo la vostra rovina e dopo la vostra rovina arriverà anche la vostra morte verso 20 i turbanti le catenine ai piedi le cinture i vasetti di profumo e gli amuleti tutti questi ornamenti erano usati dalle donne ma io penso che anche alcuni uomini usassero in alcune parti del proprio corpo questi accessori questi elementi oltre alle donne però certo i ricchi le persone importanti usavano tutti questi oggetti e vi dico che non era peccato no non era peccato avere tutte queste cose e indossarle solamente che il Signore le voleva umiliare perché si erano allontanati dal cammino del Signore e l'umiliazione era quella di lasciare questi governanti senza nulla nudi scalzi senza cibo senza vestiti non perché fosse peccato avere tutti questi ornamenti accessori no al contrario perché chi aveva più accessori era colui che rivestiva una carica più importante e bisognava salutarlo con reverenza e nel verso 21 dice toglierò inoltre gli anelli i gioielli al naso vedete che portavano i gioielli anche al naso gioielli d'oro pietre preziose 22 gli abiti da festa le mantelline gli scialli e le borsette tutte le pietre preziose l'oro i migliori veli lini tele perché così si vestivano i governatori ricchi di quell'epoca per distinguersi gli uni dagli altri per distinguere la categoria il rango il ceto sociale al quale appartenevano non è perché ripeto fosse peccato vestirsi così perché loro dovevano dimostrare il loro ceto sociale attraverso il loro apparire certo c'erano anche tante persone povere che non avevano neanche da vestirsi le donne povere per esempio vestivano di una tunica semplice magari anche dei sandali che sembravano delle ciabatte dei sandali molto poveri molto semplici e umili ricordatevi che il Signore Gesù Cristo nacque in una zona povera in una famiglia povera non erano ricchi i genitori del Signore Gesù Cristo avevano sì da mangiare e un tetto ma non vivevano nell'abbondanza e nel lusso quindi il Signore Gesù Cristo non fu creduto quando venne perché si aspettavano che venisse il figlio di un re il Messia dicevano no non può essere figlio di gente povera ma deve essere figlio di gente ricca e sarebbe dovuto vestire così con gioielli con sì abiti da festa con tanti gioielli con lane braccialetti oro smeraldi diamanti è così che si aspettavano che arrivasse il Messia ma il Messia siccome proveniva da una famiglia povera si presentò povero povero sì perché all'epoca i poveri portavano per esempio come offerta al Tempio due colombe per esempio due passeri mentre le persone ricche portavano animali animali perché erano ricchi mentre i poveri portavano per esempio due colombe e Maria e Giuseppe i genitori in carne del Signore Gesù Cristo portarono due colombe perché appunto erano poveri e portarono due colombe in offerta al Tempio quando presentarono il Signore Gesù Cristo quindi il Signore Gesù Cristo non ebbe l'opportunità di vestirsi così perché non aveva denaro quello che stiamo leggendo credo che lo abbiate letto tante volte però penso che non l'avevate capito proprio così in profondità ripeto non è che è peccato indossare questi gioielli perché quei gioielli rispecchiavano il ceto sociale di quell'epoca però com'è che il Signore voleva castigare questi governatori ricchi togliendo loro appunto le ricchezze e tutti questi ornamenti perché per loro togliendo tutte queste cose era un'umiliazione 23 gli specchi le camicette i cappucci e le vestaglie quindi il Signore diceva vi toglierò anche tutte queste cose perché vi siete allontanati dal cammino del Signore dal mio cammino quindi vi troverete nella miseria come quando oggi si dice quella persona è finita in banca rotta 24 e avverrà che invece di profumo vi sarà marciume certo loro usavano tanti profumi i ricchi usavano appunto queste fragranze fragranze molto costose ricordiamoci di quando il Signore Gesù Cristo stava predicando il Vangelo in un posto e arrivò una donna e unse i piedi del Signore con un profumo con un olio profumato e uno dei discepoli si arrabbiò e disse Signore com'è che permette a questa donna di sprecare questo olio così pregiato perché questo profumo è molto costoso quindi non possiamo sprecare questo denaro questo profumo ungendo i piedi è meglio vendere quel profumo e il ricavato lo diamo ai poveri e il Signore Gesù Cristo disse ci saranno sempre i poveri tra i poveri sempre ci saranno dei poveri ci sarà sempre della povertà quindi è impossibile che i poveri non esistano ci saranno sempre i poveri e ci saranno sempre anche i ricchi e il Signore Gesù Cristo disse questa donna ha fatto quello che doveva fare cioè ungermi ungermi perché io da lì a poco sarò morto quindi prima di morire c'era l'usanza di ungere una persona che stava appunto per morire era un rituale che si faceva al corpo quindi il Signore Gesù Cristo disse appunto che quella donna si inginocchiò ungendo i suoi piedi perché appunto dagli a poco lui sarebbe morto ma quel profumo quell'olio era molto profumato ma possedere questi profumi pregiati e costosi non è peccato tuttavia io conosco delle denominazioni cristiane o dicono di essere cristiane e dicono che è peccato raccogliersi i capelli ornare i capelli che è peccato tingersi i capelli che è peccato usare sì degli adorni come le catenine o i turbanti sulla testa che è peccato mettersi degli orecchini che è peccato magari usare dei braccialetti non so come si chiama da voi qui c'è un nome specifico i braccialetti dice e dicono che è peccato portare i braccialetti che è peccato mettersi un anello io ho ascoltato tutte queste cose perché perché hanno letto qui in Isaia capitolo 3 dicendo che è peccato ma qui non dice che è peccato anzi il contrario e sapete che ho conosciuto anche delle denominazioni cristiane che dicono che è peccato che la donna metta crema sul proprio corpo ne è in viso perché dicono che è peccato mettersi delle creme che è peccato mettersi il profumo perché è peccato che non possono dipingersi le unghie perché è peccato che non possono tagliarsi i capelli perché è peccato insomma per loro tutto è peccato ed è basato su questo capitolo 3 di Isaia ma noi come stiamo leggendo qui è un errore quello che dicono è una falsa interpretazione anzi il contrario perché le persone importanti usavano tutti questi ornamenti per distinguersi nella società e Dio sapeva che loro usavano tutte quelle cose perché avevano del denaro per comprarsi quelle cose per comprarsi i gioielli i profumi i vestiti più belli e farsi anche dei vestiti pregiati perché avevano del denaro perché erano ricchi ma per esempio Giobbe chissà come si è vestito Giobbe che era un uomo molto ricco e i loro figli ogni otto giorni facevano delle feste perché loro sprecavano il denaro i figli di Giobbe e chissà come si vestiva Giobbe e i suoi figli mi immagino che si vestissero bene con i migliori sì lini con i migliori gioielli perché questo ripeto non è peccato una persona povera non può comprarsi un profumo costoso perché preferisce comprare il cibo prima di comprare un profumo perciò va bene non è peccato ripeto semplicemente ogni persona vive col denaro che ha perciò può comprare delle cose e ne può godere secondo la capacità economica quello che io indosso me lo regala i fratelli della chiesa le persone mi regalano i gioielli io non ero abituata a portare i gioielli tutte queste cose ma la gente della chiesa mi ha insegnato perché loro mi hanno regalato così tanti gioielli che io dissi va bene li metto così che vedono che metto i loro regali e vedono che io non li disprezzo allora sono diventata un po' come dire viano in tosella bene e poi ho detto ai fratelli mi state abituando bene perché mi state regalando tante cose ma questo non è peccato non è peccato peccato è sprecare il denaro in quello che non è pane e il Signore dice non sprecate il denaro in quello che non è pane perché se una persona povera dice io devo comprarmi un anello d'oro perché se non mi compro quell'anello d'oro non sto bene però per comprare quell'anello non riesce a pagare nell'affitto non riesce a comprare il pane non mangia lui non mangia i figli solamente per comprare un anello d'oro e in questo caso si compie il verso che dice non sprecate il denaro in quello che non è pane per prima cosa impiega il tuo denaro nel necessario e poi se ti avanza compra le tue cose e godine però comprare le cose non è peccato perché come vi dicevo prima per alcune denominazioni cristiane è peccato di tingersi i capelli di pingersi le unghie mettersi delle creme perché tutto è peccato mettersi il profumo è peccato no qui sta dicendo il contrario Dio dice che avrebbe tolto tutte queste cose ai governanti per puro castigo perché si erano allontanati dal cammino del Signore però il Signore dice se voi aveste continuato nel cammino retto avreste continuato a godere delle grandezze e delle meraviglie a livello materiale ne avreste goduto di benedizioni materiali vedete come Dio ha benedito tanto Salomone a livello economico Salomone aveva delle sedie dove si sedeva che erano d'oro e perché no se Dio lo ha benedetto con tutta quell'abbondanza allora lui si sedeva su una sedia d'oro e i re delle altre nazioni venivano ad ammirare Salomone ad ascoltare la sua saggezza a vedere gli splendori che lui aveva perché Dio gliel'aveva dato e se questo fosse stato peccato Dio non avrebbe dato tutte queste ricchezze a Salomone quindi Salomone era molto ricco tanto che una regina dal sud venne per visitarlo portandogli tante ricchezze i migliori profumi le migliori spezie le migliori pietre preziose questo non è peccato fa parte delle benedizioni di Dio sempre e quando un uomo e una donna seguono il cammino del Signore se un uomo e una donna oggi nel Vangelo del Signore Gesù Cristo se questo uomo e questa donna seguono il cammino del Signore compiono i comandamenti del Signore si allontanano dal peccato e fanno la volontà del Signore allora Dio li benedirà economicamente dando loro abbondanza per passeggiare per viaggiare per il mondo per conoscere per avere i migliori immobili le migliori sedie il miglior letto perché Dio dà abbondanza le persone dicono che invece seguire il Vangelo del Signore Gesù Cristo è vivere nella miseria e nella povertà ma questa è una bugia è tutta una bugia questa quello che dice il Signore che un uomo e una donna non siano ambiziosi avari perché a causa dell'ambizione allora si si fanno tante cose malvagie e per avere sempre il desiderio di avere sempre di più sempre di più si fa del male agli altri si ingannano gli altri si truffano e questo si è peccato ma se Dio vuole benedire una persona a livello economico quella persona deve godere di quello che Dio gli dà o lei dà e quindi non è peccato se voi vi confondete oggi con questo insegnamento scrivetemi domandatevi che io vi risponderò volentieri andiamo avanti a leggere e quindi il Signore castigava quelle persone perché peccavano e volevano toglierli per esempio nel verso 24 i profumi e avverrà che invece di profumo vi sarà marciume invece della cintura una corda quindi invece di una cintura elegante fatta di pietre preziose vi darò una corda quello che noi chiamiamo un laccio una stringa questo avrebbe dato a quei governanti come cintura invece di una cintura fatta di brillanti come vi sembra quindi dice il Signore invece della cintura una corda invece di riccioli calvizie invece di una veste costosa un sacco stretto quindi vedete questo era un castigo del Signore invece di riccioli vi farò perdere i capelli diventerete calvi e il Signore diede questo castigo e infatti rimanevano calvi non riuscivano più a pettinarsi e non riuscivano nemmeno a porsi la corona sulla testa perché scivolava quindi questo era un castigo quindi invece di una veste costosa un sacco stretto quindi invece di vesti costose fatte di pietre preziose di lino e avrebbe vestiti di un sacco stretto di cilicio cioè di quelle tuniche nere strette che è la cosa più economica che esiste quindi la cosa più umiliante per loro e stiamo parlando certo tutto per quell'epoca perché il Signore voleva allontanarsi fisicamente dagli israeliti e li voleva distruggere sia fisicamente che spiritualmente e dice vi darò un marchio di fuoco invece di bellezza cosa vorrà cosa vorrà dire questo verso un marchio di fuoco invece di bellezza cos'è che è successo vuol dire che la città di Gerusalemme fu incendiata e anche il tempio di Salomone fu incendiato così che tutti morirono carbonizzati e questo si compie quando dice un marchio di fuoco invece di bellezza e quando dice vi toglierò i profumi aromatici e vi darò marciume è perché lì la gente morì di fame e nel morire di fame appunto morrivano e non c'erano altre persone che potessero seppellire quei morti e i morti rimasero lì nella città e tutti quei cadaveri a un certo punto pulsarono così tanto che si generò una malattia come la peste che fece morire tutte le altre persone all'interno della città di Gerusalemme e tutto questo accade accade poi quando venne l'esercito di Babilonia contro Gerusalemme e poi dice nel 25 i tuoi uomini cadranno di spada i tuoi prodi in battaglia e questo è successo la città fu circondata la gente morì di fame si mangiavano persino i bambini talmente soffrivano la fame e coloro che erano dentro la città morirono di peste e di fame mangiarono i loro figli mentre chi era fuori perché era una città cinta morirono per mano dell'esercito di Babilonia quindi il verso 25 si compì quando dice i tuoi uomini cadranno di spada e i tuoi prodi in battaglia le sue porte le porte della città gemeranno e saranno in lutto cioè Sion o Gerusalemme abbandonata tutta desolata sederà per terra la sta trattando come se fosse una donna sarà una donna abbandonata desolata che sederà per terra ma qui sta parlando di Gerusalemme una città che rimase bruciata rasa al fuoco quindi fu desolata e sederà per terra quindi rimase una rovina e poi dice nel capitolo 4 verso 1 in quel giorno sette donne atterreranno un uomo e diranno ma questo verso è accaduto molto dopo e dicono noi mangeremo il nostro pane e ci vestiremo delle nostre vesti soltanto lasciaci portare il tuo nome per togliere la nostra vergogna qui sta parlando di qualcuno di un personaggio che avrebbe tolto la vergogna al popolo di Israele a Gerusalemme a Giuda queste sette donne rappresentavano delle nazioni che all'inizio vissero nel peccato e poi dicono a qualcuno permettici di portare il tuo nome di togliere la nostra vergogna come se parlassero al Signore Gesù Cristo come se parlassero a un personaggio che Dio avrebbe inviato e verso il quale si sarebbero dirette queste sette nazioni dicendo dacci tranquillità dacci pace lasciaci portare il tuo nome adesso vogliamo vivere la nostra vita perdonaci e questo è successo perché come vi ho detto all'inizio dopo che passarono i 70 anni di schiavitù il gruppo di residuo che era appunto 70 anni schiavo a Babilonia quando ritornarono a Gerusalemme per ricostruire la città trovarono che la città non esisteva più tutti furono morti ma Dio permise che un gruppo di residuo più o meno 5.000 persone che furono portate a Babilonia schiave per 70 anni lì si moltiplicarono e poi Dio gli permette di ritornare nuovamente a Gerusalemme per ricostruire tutto da lì in poi il Signore permette di ricostruire la città e passarono 430 anni ma in questi 430 anni successero tante cose al popolo di Israele furono umiliati sottomessi schiavizzati da tutti gli altri imperi con tutte le altre nazioni che cominciarono a governare su di loro come i Persi i Meda i Greci infine i Romani e così via perciò Gerusalemme e Giuda soffrirono le persecuzioni le umilazioni e Dio li aveva abbandonati non mandando più loro dei profeti non parlò più loro quindi il popolo di Israele era senza Dio non ricevevano rivelazioni profezie camminavano da soli desolati e si compì simbolicamente tutto quello che abbiamo letto cioè furono spogliati di ogni bellezza di ogni gioiello di ogni profumo di ogni veste pregiata e si compirono questi versi durante quei 430 anni questo è quello che è successo Dio li ha spogliati gli ha spogliati quella Sion quella Gerusalemme fisica l'ha castigata e il Signore la chiamava la figlia di Sion siccome essi non compirono la parola vedete cosa ha fatto il Signore con loro li ha castigati ma grazie al Signore Gesù Cristo dopo che passarono questi circa 500 anni il Signore si ricorda di Israele e manda Giovanni il Battista e poi il Signore Gesù Cristo ma questa è un'altra storia che racconteremo un altro giorno in un altro insegnamento storia meravigliosa di quello che il Signore Gesù Cristo fa faceva e farà quindi questo è un insegnamento per tutti e io sono qui sempre con tanto piacere per chiarire qualsiasi dubbio voi abbiate finisce qui l'insegnamento di oggi il mio invito per voi è quello di leggere la Bibbia e di seguire il cammino del Signore di praticare i Suoi comandamenti di non avere rancore odio invidia malizia ambizione non sequestrare non commettere omicidio non rubare non adulterare non fornicare non uccidere non rubare non essere vendicativi bisogna abbandonare tutte queste cose che ho appena menzionato invece di pensare di abbandonare per esempio la cura del vostro corpo dei vostri capelli perché non è peccato fatelo con moderazione senza esagerare e secondo ovviamente il vostro portafoglio però non sentitevi che siete nel peccato perché vi sistemate il corpo no non è peccato e allora magari smettete di pettinarvi o di sistemarvi i capelli perché è peccato però poi se maledite gli altri allora quale sarà il peccato maledire le persone di dire parolacce o sistemarsi i capelli pettinarsi ma magari se vi pettinate vi sentite anche più presentabili e vi vedranno anche bene le altre persone che vi circondano ben curate ma ci sono persone che dicono no no io non uso nessun profumo nessun gioiello perché è peccato però cos'è che fanno sentono rancore nel cuore spettegolano murmurano si arrabbiano discutono fanno del male al prossimo fanno delle stregonerie dei malocchi delle maledizioni allora qual è il peccato? dove sta il peccato? perciò dobbiamo essere saggi e intelligenti e vi invito a rileggere questo capitolo 3 di Isaia leggete anche il 4 cosicché imparerete e vi libererete di alcuni carichi e voi comprenderete che la cosa migliore è compiere i comandamenti del Signore piacere a Dio in questo non commettere peccato certo non esagerare perché ogni persona vive in una determinata cultura ci sono delle usanze ci sono paesi nei quali si fa una cosa e in un altro paese no ci sono posti dove le persone esagerano sì esagerano allora per esempio cosa sarebbe un esempio di esagerazione un uomo che si dipinge i capelli di verde o che si tinge i capelli di giallo o di azzurro questa è un'esagerazione oppure una donna che si tinge i capelli di azzurro oppure di rosa oppure di verde anche questa è un'esagerazione poi ci sono anche delle persone che si fanno delle incisioni dei segni per mostrare che appartengono ad un certo paese ad un certo popolo ma non bisogna esagerare ma essere moderati anche in questo perché quando si esagera lì sì diventa una cosa brutta perché si richiama l'attenzione voi se state camminando oppure se viaggiate in un altro paese e se quel paese tutti hanno i capelli di color nero o castani voi arrivate con i capelli di colore azzurro o di verde o di giallo tutti vi guarderanno tutti vi fisseranno si scandalizzeranno e diranno questa persona è una pazza è uno schizofrenico vi diranno così è meglio di no è meglio non esagerare non mostrarsi così tanto se voi vivete in un paese dove tutti hanno i capelli verdi allora certo voi vi tingete i capelli di verde e nessuno si scandalizzerà perché tutti hanno lo stesso colore di capello ed è qualcosa di normale però vi dico questo usando un modo di dire non diventate un neo in una situazione o in un posto oppure usando un altro modo di dire non diventate come una mosca bianca una mosca bianca è un comportamento raro di una persona rispetto ai suoi simili perché le mosche sono nere non sono bianche quindi quella mosca bianca scandalizza quel neo è fuori posto vuol dire quindi che dovete essere delle persone moderate nel vostro modo di vestirvi nel vostro modo di usare gli accessori adorni quindi usare tutte queste cose con moderazione vestitevi con moderazione non uscite di casa sei minuti perché voi se uscite sei minuti è qualcosa già di immorale immorale quindi bisogna essere saggi anche in questo e stare attenti tutto all'interno della prudenza della moderazione della sobrietà bisogna essere sobri in tutto non esagerati bisogna essere modesti così che gli altri non si scandalizzano non ci criticano non ridono di noi non ci prendono in giro non si sentono a disagio c'è un altro proverbio che dice paese che vai usanza che trovi ma non vuol dire che devi fare tutto quello che vedi fai le cose ma con moderazione perché se tu vai in un paese dove fanno delle cose pazze adorando per esempio delle statue adorando idoli e facendo cose illecite tu farai la stessa cosa no devi essere saggio attento quindi non è fare quello che si vede no bisogna usare la moderazione l'educazione le regole morali bisogna far lavorare la morale le qualità le virtù bisogna avere i valori virtù qualità e queste sì in tutto il mondo dove noi andiamo dobbiamo dimostrare queste cose queste virtù e qualità le persone perciò saggezza prima di tutto prudenza qui per esempio stava dicendo che si mettevano degli anelli al naso a me sembrerebbe ridicolo che noi qui usassimo un gioiello un anello al naso mentre per gli indigeni non è ridicolo perché tutti loro gli indigeni usano questi anelli nel naso e per loro è una cosa normale però per noi uscire con un anello al naso si richiamerebbe solamente l'attenzione e questo non è corretto cerchiamo di essere normali moderati modesti senza esagerare ma tutto nella normalità e con saggezza piuttosto gradiamo Dio siamo modesti perché la modestia è molto importante nei confronti di Dio spero che questo insegnamento vi sia servito e ci serva e spero che non malinterpretiate l'insegnamento non che adesso nei prossimi giorni mi mandate le vostre foto con le vostre teste piene di ornamenti no saggezza non dipingetevi per esempio le labbra di nero no siate moderati siamo moderati i figli di Dio sono moderati sobri prudenti saggi sono intelligenti e danno buon esempio e buona testimonianza così bene che Dio vi benedica tutti grandemente adesso preghiamo e chiediamo il Signore che ci aiuti a vivere una vita retta e corretta quello che Lui vuole che noi viviamo per piacere Padre Santo Benedetto Dio Onnipotente grazie Padre Celeste per la lettura della Bibbia grazie Signore perché abbiamo letto questo passaggio della Bibbia nel quale abbiamo trovato tanti insegnamenti culture modi di vivere di vestire delle persone nell'antichità e noi oggi abbiamo un modo di vestire un modo di comportarci un modo di usare il nostro corpo e facciamo il meglio facciamo il meglio per piacerti per gradirti affinché nessuno si scandalizzi di noi e speriamo Signore che Tu ogni giorno ci possa insegnare il modo giusto di vestirci il modo giusto di comportarci nella vita quotidiana in questa era che noi viviamo perché noi vediamo che ci sono tante mode nel mondo e la moda cambia in continuazione la gente si inventa tante cose che scandalizzano usando la moda ma quelle cose che scandalizzano provengono da persone che non hanno un buon ragionamento che non hanno senno un buon esempio quindi Signore dacci la capacità di capire dacci intelligenza e saggezza per poter distinguere il bene dal male quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare così che possiamo fare tutte le cose in un modo saggio moderato e sensato Padre Santo Tu ci insegni sempre ci hai insegnato Padre perché a volte noi esageriamo a volte noi siamo estremi o siamo in un estremo oppure in un altro ma mai in mezzo e noi dovremmo stare in mezzo così che tutte le cose funzionerebbero perfettamente nella nostra vita e piacerti in tutto e vivere una vita santa retta che Tu vuoi che noi viviamo Signore e Ti chiediamo di vivere secondo la nostra possibilità economica senza fingere davanti agli altri che abbiamo quando in realtà non abbiamo e che magari ci sacrifichiamo o sacrifichiamo la famiglia solamente per fingere per mostrare dobbiamo invece essere saggi e umili in tutto grazie Signore insegnaci il buon vivere insegnaci a vivere bene Padre Santo a fare le cose per bene ora Signore ti chiedo che Tu stenda la Tua mano potente la Tua mano guaritrice facendo miracoli segni in tutte le persone che sono malate di diverse malattie soprattutto quelle malattie incurabili stendi la Tua mano guarisci pulisci libera ognuno di loro Signore libera le persone che sono vittime di stregonerie malocchi e maledizioni togli Signore tutti questi lacci queste catene diaboliche tutte queste maledizioni del diavolo distruggile Signore spezza le catene libera la Signore le persone dai loro pace e allegria ci sono tante persone depresse che vivono in amarezza sofferenza libera queste persone Signore benedicili spezza Signore il laccio del maligno togli la tristezza Signore togli Signore quei vizi come la droga e tutti gli altri vizi che il diavolo sta inculcando nelle persone per distruggerle affinché facciano il contrario rispetto alla Tua volontà Padre Santo stendi la Tua mano correggici guidaci sempre per il cammino della rettitudine aiutaci Signore concedici il sostegno cosicché quando noi preghiamo per le persone per i malati possiamo ricevere il Tuo sostegno così che Tu puoi fare tanti miracoli e segni perché questa è una Tua promessa che Tu hai fatto Signore dal principio grazie Signore perché siamo davanti alla Tua presenza grazie eterno Dio benedetto e lodato il Tuo nome glorificato per sempre il Tuo nome aiutaci a fare la Tua volontà Signore a compiere i Tuoi comandamenti per ottenere sempre le Tue benedizioni e che possiamo sempre vivere in pace e in felicità e vivere nell'abbondanza avere tutto il necessario che non ci manchi nulla grazie Padre Santo benedici Signore tutti i Tuoi figli le Tue figlie tutte le persone tutti coloro Signore che si stanno aggiungendo piano piano ai nostri insegnamenti benediceli prosperali dai loro gioia nei loro cuori pace e felicità nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo figlio amato per Lui siano l'onore la gloria e la lode da adesso e per sempre Amen gloria al Signore adesso cantiamo il coro numero 6 che dice risvegliati Sion despierta Sion levanta una tienda e colloca in ella l'arca di Dio alabai bendice e danza Jehovah che Dio benedetto 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 l'ho dato il Signore molte grazie miei cari fratelli e sorelle Dio vi benedica tutti grandemente vi amo con tutto il mio cuore tanti abbracci e tanti baci da parte mia e anche ai bambini che amo molto grazie 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 grazie